Uno sguardo disincantato verso il passato per capire meglio il presente e noi stessi. È questo l'insegnamento di Paolo Mieli alla luce del suo incontro, organizzato da Adriana Rasera, presso l'auditorium Toniolo di Conegliano, giovedì 28 aprile. Il noto giornalista e storico ha trasportato il pubblico in un viaggio nel passato e nel presente, dimostrando che un uso onesto della memoria può preservare l'umanità dagli sbagli che sta commettendo. Molte delle occasioni per cui nel mondo ci si spara, ci si uccide, potrebbero essere evitate. Io la chiamo l'arma della memoria, in realtà più in generale si potrebbe dire l'arma della cultura. Lei è uno storico oltre che giornalista. Quali fatti contemporanei potrebbero passare alla storia? Sicuramente quella che si annuncia come una guerra contro l'Isis e più in generale contro il radicalismo, islamista. Questo è sicuro che sarà nei libri di storia, sia per il modo spettacolare, drammatico e spettacolare con cui è cominciato 15 anni fa, l'11 settembre del 2001, ma anche poi per la quantità di conflitti, di guerre che ha portato nel mondo e da ultimo per questi attentati terroristici in Europa, che speriamo non abbiano conseguenze, ma non è detto che non travolgano l'Europa intera. Perché è importante continuare a studiare la storia? Perché studiando la storia è importante continuare a studiare la storia perché studiando la storia si può cercare di evitare, perché poi gli errori si commettono sempre, ma cercare di evitare di commettere gli stessi errori. E se uno studia bene la storia, senza pregiudizi, senza tesi precostituite, senza voler andare a cercare quello che è convinto di aver già trovato nella sua testa, se uno la studia con attenzione può evitare di ripetere molti errori. Tutti i conflitti, tutte le cose più terribili che hanno afflitto l'umanità sono dovute a errori, non a decisioni, a cattiveria. I libri riusciranno a sopravvivere a internet? Io penso che se c'è qualcosa che sopravvivere a internet sono i libri, perché i libri sono sopravvissuti ai giornali, alla televisione, alla radio, tutti i mezzi di comunicazione, perché i libri sono qualcosa in più. Certo, i libri si possono leggere anche sul digitale, ma i libri sono un oggetto, sono una cosa che uno si tiene lì sulla scrivania, sul comodino, sul tavolo che porta al mare, che porta in treno e soprattutto che va a ritrovare. È bello guardarli, è bello sedersi e l'occhio ti cade su un libro. Quindi i libri sono belli da leggere al 90%, ma c'è un 10% che ne garantisce la sopravvivenza e sono anche belli da vedere.